Ancora frizioni nella maggioranza a Polla, come annunciato il passaggio di consegne in consiglio comunale tra la dimissionaria Teresa Pascale e il neoconsigliere Graziano Vocca, a lei subentrato in quanto primo dei non eletti della compagine che sosteneva Giuliano, non si è consumato in maniera tranquilla. Nella seduta dell'assise di giovedì scorso, infatti, Vocca ha esordito dopo la surroga con una lettera prendendo le distanze dalla maggioranza con parole al vetriolo nei confronti del sindaco Rocco Giuliano, accusato di averlo abbandonato dopo la vittoria alle elezioni. Una posizione a cui il primo cittadino ha replicato infastidito durante il consiglio comunale facendo riferimento al passato legame e che tuttora ha bollato con dispetto commentando Ci interessa poco la scelta di Vocca, la politica è un'altra cosa e formazione e soprattutto educazione. D'altra parte il neoconsigliere nell'ultimo anno, anche se rimasto fuori dal consiglio comunale, non aveva fatto mistero di essere critico nei confronti di Giuliano, dalla cui parte si era comunque schierato con alterne fortune personali per dieci anni. Meno rancoroso nel corso del consiglio comunale, invece, è stato il saluto alla Pascale, apprezzata per il suo lavoro anche dalla minoranza e nei cui confronti il sindaco ha voluto ricordare la quarantennale amicizia. Ora, però, di fronte a questi nuovi equilibri, si apre per la maggioranza di Polla una fase di riflessione, perché il sindaco dovrà decidere a chi affidare il posto in giunta ed eventualmente le deleghe della Pascale, tanto più che Vocca non sarà della partita. Non c'è ancora nessuna intenzione, ha detto il primo cittadino alla nostra emittente prendendo tempo. Non è ancora il momento.